Tra i narratori del nostro tempo, Marie. Le opere dell'artista Erpina Antonella Genzale sono state selezionate per il progetto ideato e curato dalla critica storica dell'arte Leonardo Zappulla. A Roma, nella cornice del centro congressi di Piazza di Spagna, è stato presentato il volume, edito dalla Fondazione Effetto Arte, che raccoglie le opere selezionate e gli autorevoli commenti con riferimenti biografici di 25 artisti italiani. Attraverso la loro arte si prova a leggere la realtà. Lo fa ponendo la sua firma e la sua interpretazione del contenuto il critico per antonomasia Vittorio Sgarbi. Marie, senza filtri, scatta fotogrammi dell'anima che imprime come un'impronta su tela, piuttosto che su vetro. Fusione di stili e tecniche, digitalizzazione e non ultime installazioni. Marie, seppure con metodologie differenti, cuce l'essenza dei suoi dipinti. Per Sgarbi emerge l'impressionismo delle emozioni, ma la grande forza nei tempi dell'apparenza è il senza filtri che Marie utilizza per scattare quei farrammenti d'anima. Non una dimensione individuale, bensì collettiva, nella quale riconoscersi un'onda della coscienza. Oggi ha fatto capire a tutti gli artisti presenti che ognuno di noi era importante per lui e questo per noi è stato veramente una cosa eccezionale. Sto riguardando l'opera che non ricordavo e sento una prestezza, una spontaneità, una pittura che è fatta di colore vibrante, mosso come un'onda della coscienza. Grazie. Grazie.